Allora ragazzi siamo qui con la torre delle prove, non difficilissima in realtà, decimo piano abbiamo Frisia con le sue 30 gemme, un parte 2 e un parte 1, poi all'undicesimo troviamo 50 per tipo di pezzi di cosmetico e un milione d'oro che è ok e al dodicesimo abbiamo 20 martelli che potrebbe essere meglio ma non hanno voluto ok e 5 pacchetti carte scena 2 Allora per quanto riguarda Frisia abbiamo questa squadra, tutti vita difesa, cercate ecco indicativamente se avete Elisabeth all'80 e non al 60 eccetera eccetera cercate di stare intorno al 140, 120, 140 di vita così da farvela shottare giusto in tempo quando gli altri hanno poca vita e recuperano, almeno recuperano tutto Lei appunto è qui per la sua passiva che dice che quando muore toglie i debuff e cura tutta la vita e aggiunge 2 gauge per la ulti Gli altri due servono per la ulti e basta, Lost chiaramente è sbroccato e King io ho messo lui perché è l'unico che ho alto di ulti, veramente alto Twigo l'ho messo per facilitare un po' la vita a Lost per quanto riguarda la vita, visto che come equip gli ho messo attacco danno critico Almeno ha un pochino di vita in più e non muore E nada, artefatti vita difesa, cibo attacco, ecco potete cambiare il cibo, mettere in vita se vedete che proprio non riuscite a sopravvivere Però vedete un po' voi Qui abbiamo appunto attacco difesa Mel, vita difesa, Leeds e King Vediamo se riusciamo a far morire Elizabeth giusto all'ultimo attacco così da recuperare tutta la vita E fare un bel lavoretto Allora, spostiamo qui, qui e qui Mi deve anche andare bene con le carte, ragazzi non c'è nulla da dire per quanto riguarda quello Ok, peccato, poteva morire un po' più tardi però, ehi Ok, e Aoe E un altro Aoe Troppi Aoe Perfetto, andiamo a fare ulti Aoe E single target, vediamo che succede Ok 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 Aoe Aoe Single target, dai Puc, puc, puc Non malissimo Non malissimo Eeeh Aiaiai Che dolore incredibile Andiamo di nuovo di ulti E di Single target Vai Non così difficile Eeeh Piccolo consiglio Arrivate a 150.000 HP con Elizabeth Almeno vi muore giusto in tempo quando i vostri alleati hanno praticamente Eeeh Un quarto di vita e vi refulla Dai Fate qualche prova Del genere Poi Passiamo al prossimo Piano Allora ragazzi Per l'undicesimo piano Questa è la squadra che ho utilizzato Nesta rossa Arthur verde Gother verde E Jillian verde Nesta rossa Un'equip Eeeh Attacco Difesa Per fare danno Come link A Zeldris Che fa furto di vita Cibo furto di vita Artefatti Difesa e vita Se potete Gli altri è poco importante In realtà La tattica sarà quella di fare il counter 3 stelle Quindi resettate finché non lo avete Eeeh Basta in realtà Tutto lì Ok Un bel 3 stelle ce l'abbiamo Perfetto Ripeto Non provate a partire per primi Perché tanto Non funziona Tutti su Arthur Ok Va bene Va bene Va bene Amo Skill up Su Nesta rossa Attacco E buff E buff Counter Ok Counterino 3 stelle Mi raccomando Uh buono Peccato Che non ce n'è arrivato un altro Ottimo Ottimo Che danno Che danno Perfetto Molto semplice in realtà Come tattica Bisogna solo trovare la La run giusta Dove appunto Vi capita Il doppio Il doppio O il doppio skill up O il doppio counter Dai Facciamo così Facciamo Direi di lasciare la ulti di esta rossa Così nel dubbio Così nel dubbio Al massimo Abbiamo una protezione Contro una Eventuale ulti Del nemico Perfetto E via di counter Benissimo Recuperiamo praticamente Tutta la vita Quindi Perfetto Veramente Perfetto Ragazzi E in realtà Tutto qui Il secondo piano È questo Ulti Tanto per Andiamo di Single target E via Easy peasy Tutto qui Se avete difficoltà Provate diversi In diversi modi Esta rossa Tipo con Io ho messo Zeldra Sotto Appunto per Fare furto di vita Quindi Perfetto Allora Piano 12 Quindi quello contro Simon Usiamo questo team La tattica di base È quella di far Attivare il comandamento Di Melascula Perché La peculiarità Di questo scontro È che Dopo Cioè Dai 6 Debuffin poi Alla squadra C'è un boost Incredibile Delle stat Quindi Melascula Deve Mettere 6 incendi Praticamente Dobbiamo far sì Che tutti Si prendano 6 incendi Quindi non dobbiamo Attaccare Possiamo solo Girare carte E Andiamo Set Attacco Difesa Assault Vita difesa Per gli altri E nada Tutto qui Ok Allora Speriamo Che ci arrivi Qualche taunt Sarebbe veramente Perfetto Ok Dobbiamo Solamente Girare carte Perché ricordo Che dobbiamo Avere 6 Debuff Per avere Un boost Alle stat Quindi Sarebbe proprio Il top Ora Taunt Giriamo Carta E giriamo Carta Perfetto Contarmi il soft Veramente ottima Derriere blue Poi Dai dai Quanti attacchi Su Mamma mia Dai Non ho tempo Da perdere Ok Altro Taunt Altro Rigiro Di carte Perfetto La strategia Migliore Che male Che è successo Allora Vediamo se possiamo Cavarcela ancora O no Vamo così Vamo così E così Perfetto Lui ha Effettivamente 6 Debuff Quindi è Non dico Invincibile Ma Super Giù Vediamo se Una ulti Riesce a Far qualcosa Appunto Come vi ho detto Prima Da 6 Debuff In su Prende Un pochino Di stat Come Vediamo Ha Ha un po' Di vita E un po' Di attacco Quindi Teoricamente Con una ulti Dovrei fare Qualcosina Esatto 5 milioni E questo è ragazzi In realtà Vi deve andare bene con i pg Nel senso che Tentate di tenerne Uno in vita Senza muovere le carte E tutto qui Dai Vi invito a lasciare un bel mi piace Un commentino E a condividere il video Se vi fa piacere Per il resto Bella Ci vediamo In una prossima guida Ciao a tutti 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 Ciao a tutti